No, non lo sentiamo, l'audio non è buono. Allora, perfetto. Questa stessa cosa la chiedo a Lando Sirioni, così accorciamo anche le domande. Gli avrei chiesto varie cose, però i danni economici di questo clima d'allarme. Allora, io sono in buona parte d'accordo con le osservazioni che prima ha fatto Nicola Porro per un motivo molto semplice. C'è un utilizzo veramente assurdo del Covid, perché se il Covid colpisce determinate persone, una determinata classe sociale, ci sono certi quotidiani che vanno giù duro. Mentre se il Covid colpisce altre persone, poi si trovano comunque mille giustificazioni. Allora, le discoteche danno lavoro a centinaia di migliaia di persone, perché le discoteche danno nel periodo... Quindi è stato giusto riaprirle? Ma secondo me sì, perché poi chiaramente io non so come è stata gestita la situazione lì, però comunque le discoteche danno tanto lavoro, danno lavoraggione. Sono lavori stagionali. Quindi è chiaro che, come dire, davanti a una situazione del genere, quando bisogna scegliere, si sceglie sempre per tutelare comunque la salute. Ma è altrettanto vero che c'è una penalizzazione a monte che viene fatta su certi settori, invece su altri, molto probabilmente si chiude un occhio, perché magari la discoteca passa, come concetto nella nostra società, come frequentata da gente di destra. È stato sempre così. Addirittura? È stato sempre così, da generazione. Quindi addirittura Sileone ci vede anche un elemento politico ideologico. Vedo Geremica ridere, ma siccome abbiamo nel frattempo... Porro è d'accordo, ma abbiamo recuperato Cottarelli, che vedo sorridere anche lui e che qualcosa ci vorrà dire. Prego. ...tecnico-scientifico, però convivere col virus vuol dire convivere, cioè vivere. Quindi il caro Sileone, che rappresenta 100.000 persone che tutti i giorni devono andare in banca a aprire lo sportello, a fare la cassa, eccetera, dovranno convivere col virus. Mi spiace dirla questa cosa, ma dovrà farlo col virus, oggi del Covid, ieri dell'influenza, l'altro ieri della polmonite, della TB... Il nostro è un servizio pubblico essenziale. Sto cercando di dire esattamente questo. Se noi pensiamo di chiudere le banche, chiudere le discoteche, chiudere... Non è che c'è una categoria che oggi non possa conviverci. Allora, però, Nicola, vediamo i numeri della crisi, che c'è, appunto, potenziali... Starebbe meglio, perché mandiamo un messaggio che è devastante, insomma. Esatto. Ecco, allora, una battuta proprio, perché poi devo andare in curiosità. Una battuta è che non esiste che la medicina di ogni male è il licenziamento, no? Perché già abbiamo, per fortuna, dovremmo ricevere 27 miliardi dell'Europa per l'usciuro, per la cassa integrazione, quindi ha fatto bene questo governo, da questo punto di vista, a blindarsi rispetto a questo argomento. Il problema principale è un atto. Entro il 18 di ottobre il governo deve presentare il recovery plan, cioè deve presentare i progetti con i quali potrà ricevere tutta una serie di finanziamenti. Da lì in poi si parte. Da lì ci si muove. Allora, io vado in pubblicità, ma prima ringrazio Paola Tommasi, la ringrazio per essere stata con noi, la saluto e ci vediamo presto. Grazie a voi. Tutti noi preferiamo evitare questa eventualità. Ecco, quello sarebbe meglio evitarlo in generale. Sulle scuole io penso che ci sia, come dire, la volontà da parte di qualche partito politico di dare una parvenza di ritorno alla normalità. E questo, in previsione delle elezioni regionali, potrà essere utilizzato sicuramente da qualcuno. E questo invece è da... Il giorno dopo noi abbiamo lanciato una nostra iniziativa chiedendo al governo di convocare le banche, siccome le banche sui territori fanno quello che vogliono, investono dove vogliono, con sponsorizzazioni anche abbastanza inutili, abbiamo detto, presentiamo, voi governo, convocate le banche e fate un progetto di largo respiro e di ristrutturazione dell'utilizia scolastica. Il giorno dopo che abbiamo lanciato questa nostra iniziativa, i principali quotidiani nazionali ci hanno dedicato una pagina, questa è il tuo Nicola, una pagina intera. Poi, esattamente tre giorni dopo, l'ABI, poi le dico perché le sto raccontando, l'ABI ha fatto un comunicato stampa molto concreto e molto serio, dopo che aveva interpellato tutti gli amministratori delegati delle banche, dicendo che sull'iniziativa presentata dalla Fabi siamo disponibili ad incontrare il governo. Qui utilizzo, imito per un secondo, se me lo permette, Nicola Porro. Lo imitiamo addirittura. Toc, toc, Ministra Zolina, ma che aspetti a convocare le banche? Ecco, aspettiamo. Quindi c'è un problema di attese, dice, glielo ho mandato allora, ci si poteva pensare prima. Allora, voglio sentire anche Federico Geremicca sulla questione di... Una battuta anche di Sileone. Sulla serietà della politica che rivendicava giustamente il Presidente Gianni, io ho un'occasione storica, questa non me la voglio proprio lasciare sfuggire. Il tema, uno dei temi centrali per la Toscana è il Monte dei Paschi di Siena e il futuro del Monte dei Paschi di Siena. Lei sa, Presidente, che entro il 2021 lo Stato dovrà disimpegnarsi di quel 60% che mantiene il controllo della prima banca in Italia. La sua posizione è il caso dove venisse eletto Presidente della Regione, rispetto anche... Non avrai il tempo per rispondere, purtroppo, quindi siamo sfasati. E come? Eh, non ce l'abbiamo, devo chiudere. Tu mi insegni che se no mi cacciano fuori. Quindi purtroppo... Ma sono più bello, ma sono più bello... Allora, finiamo la domanda e poi... No, ho finito, la domanda tanto l'ha capita, Presidente. 20 secondi, alzi 10 per rispondere, Gianni. 5 Stelle hanno una posizione diversa dalla vostra. E basta, se no non ti risponde. Vai. Io sono per continuare con l'azione pubblica nel mondo dei passi. È da 1472 che noi abbiamo una banca che è un'eccellenza in Italia. Allora, continuiamo con l'azione pubblica e io continuo a chiudere la trasmissione perché se no cacciano me. Quindi grazie a Geremica, grazie a Gianni Boccalupo per la campagna elettorale, grazie a Carlo Cottarelli. Ricordo il libro di Nicola Porro, Le tasse invisibili e soprattutto ricordo anche che lunedì ricomincia Quarta Repubblica, quindi dopo di noi avrò tutto il tempo di ricordarvelo. Grazie anche a Lando Sileoni. Grazie a voi. Grazie, ci vediamo qui domani sera sempre alle 20.30. Grazie per la visione.